Buongiorno. Professore, lei ha seguito fino a questo momento il dibattito che c'è stato. Secondo alcune stime, e la stima è dei sindacati, ma è stata ripresa da un report di Banca Italia, beh, con la fine del blocco dei licenziamenti si rischiano oltre 500.000 persone che perderanno il posto di lavoro. Secondo lei, quale potrebbe essere la cifra reale? E soprattutto molti già indicano come le persone più penalizzate, sempre donne e giovani, perché hanno i contratti più precari. Sì, purtroppo è vero, i più penalizzati sono donne e giovani. La cifra è un po' maggiore, perché si parte purtroppo da 500.000 per arrivare addirittura a 2 milioni. Noi abbiamo avuto un 2020 disastroso e ora dobbiamo in qualche maniera necessariamente recuperare ciò che abbiamo perso, quasi il 9% del PIL. Sentivo il dibattito in studio molto interessante. In realtà io credo che ci sia bisogno di entrambe le cose. Cioè, da una parte gli ammortizzatori sociali, come si diceva, sono fondamentali, specie che quando c'è stato il Covid, con la crisi che abbiamo avuto, sarebbe stato veramente un disastro senza il contributo degli ammortizzatori sociali. Dall'altra però è anche vero che ci vogliono delle politiche attive del lavoro. Guardi, proprio Confindustria, prima del Covid, aveva pubblicato una ricerca molto interessante. Su 100 richieste di posti di lavoro se ne possono soddisfare solo 60, perché per il 40% c'è un disallineamento tra qualità dell'offerta e qualità della domanda. Quindi bisogna intervenire in modo globale, attraverso sia gli ammortizzatori sia politiche attive del lavoro. Professore, mi aggancio a questa cosa, perché molto probabilmente sono previste una serie di assunzioni per i centri per l'impiego, proprio per aiutare questo incontro tra domanda e offerta di lavoro. Molto probabilmente nei centri per l'impiego finiranno anche i navigator. Si è discusso molto sul loro utilizzo, soprattutto sulla loro utilità. Io le chiedo un po' un bilancio. Guardi, voglio fare una premessa che secondo me è importante. Il reddito di cittadinanza, tra l'altro l'abbiamo visto soprattutto durante il Covid, è stato un provvedimento essenziale. Mi spiego perché. Anzitutto perché il reddito di cittadinanza non esisteva soltanto in Italia e in Grecia. Lo avevano già in tutti i paesi europei. Tra l'altro noi siamo passati da circa 500.000 richieste del reddito di cittadinanza all'inizio, voglio dire, del provvedimento. Siamo passati a oltre 1.600.000 richieste, famiglie che lo hanno richiesto, nel 2020. Questo già ci dà un'idea dell'importanza di questo reddito. Relativamente a Navigator, lì c'è da fare qualcosa in più. Perché sicuramente il provvedimento è giusto. L'attuazione va migliorata. Perché l'attuazione va migliorata? Perché la Corte dei Conti, quindi un dato ufficiale, ci ha detto che poi sostanzialmente solo il 2% di coloro che hanno avuto il reddito di cittadinanza poi hanno trovato occupazione. Bisogna indirizzare, secondo me, verso i nuovi lavori. Bisogna indirizzare verso la transizione ecologica, verso la transizione della green economy, verso la transizione della mobilità sostenibile. Perché i nuovi sbocchi sono lì. Ed è lì che bisogna vedere il futuro del lavoro. Professor Di Taranto, continuiamo a parlare di tasse. Perché nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la proposta del segretario del PD Letta, che ha lanciato l'idea di una tassa di successione per i grandi patrimoni per aiutare i giovani. Invece il segretario della Lega, Salvini, è tornato sulla proposta della Web Tax. Io le chiedo brevemente quale di queste due proposte potrebbe essere realizzata effettivamente e quale potrebbe essere il gettito. Cosa ci conviene di più? Guardi, secondo me, al momento, nessuna delle due. Ho detto al momento. Perché in Italia c'è bisogno, anzitutto, di una riforma fiscale. Noi abbiamo troppe aliquote, cinque sono troppe. Abbiamo dei passaggi, tra l'altro, che sono eccessivi da un'aliquota all'altra. Quando si superano i 28 mila euro di reddito, noi abbiamo 11 punti in più di aliquota. Quindi ci vorrebbe, anzitutto, una riforma del fisco, semmai come quella tedesca, che va direttamente in continuità attraverso gli incrementi del reddito. Poi, certo, si può, assolutamente, e renderlo più continuo. Poi, assolutamente, si possono fare altri interventi. Capisco anche la super tassa sui ricchi. Però devo dire che in questo momento sono d'accordo con Draghi. E' quantomeno prematuro. Cioè, come dice Draghi, ora i sogni bisogna averli, non bisogna darli. Ecco, proprio su questo, professore, Banca Italia ha detto, insomma, che, secondo uno studio, il 60% delle famiglie fatica ad arrivare alla fine del mese. Questo dato è cresciuto di 10 punti rispetto a prima della pandemia. Io le chiedo, questa fase, questo fatto che le famiglie hanno perso potere d'acquisto e reddito, è una fase transitoria o ci vorranno anni per recuperare il reddito precedente alla pandemia? No, non ci vorranno anni. Io penso che in un paio d'anni le famiglie potranno recuperare. E che è aumentato molto il risparmio delle famiglie, perché c'è incertezza del futuro. Oggi gli italiani hanno bisogno, invece, di certezza per il loro futuro. Io sono sicuro che ricominceranno a spendere. D'altro canto, i dati sulla fiducia sia delle imprese, sia dei consumatori, gli ultimi dati pubblicati proprio in questi giorni, credo che diano ragione a questa tesi. Professore, lei parlava di certezze. Beh, poche certezze ha in questo momento all'Italia. In settimana è arrivato l'accordo tra Governo e Commissione europea per la NUCO-ITA, che appunto deve rilanciare la ex compagnia di bandiera. Il problema è che è dimezzato il numero di dipendenti, è dimezzata anche la flotta. E allora, appunto, proprio a proposito di prospettive, che prospettive ha questa nuova compagnia? Ma guardi, questo molto dipende dall'Europa, perché è vero che si è detto che l'accordo si è raggiunto. Io però vorrei capire in che termini si è raggiunto questo accordo, perché è restato il punto della discontinuità. Cioè, sostanzialmente adesso l'Italia dovrà partecipare ad una gara per poter mantenere il suo brand. Ecco, Draghi ha giustamente parlato di asimmetrie tra quelli che sono stati gli aiuti di Stato dati in Francia e in Germania, le compagnie aeree, rispetto alla situazione dell'Italia. Quindi sarei molto cauto su questo tema per vedere esattamente cosa prevede questo accordo. È evidente, ci sarà un taglio del 50%, ahimè, dei lavoratori, del 50% degli slot. E vorrò proprio vedere poi chi acquisterà questi slot abbandonati dall'Italia. È una situazione che va tenuta molto sotto controllo e con molta attenzione. Grazie.